Sviluppato da From Software in collaborazione con Japan Studios, Bloodborne è una delle esclusive PlayStation 4 più attese per questa prima parte dell'anno. Raccogliendo l'eredità dei due Dark Souls e la visione creativa di Detaka Miyazaki, il titolo debutta sul mercato carico di aspettative e pronto a saziare le voglie dei fan. Bloodborne non avrà il marchio della saga Souls, ma a tutti gli effetti ne rappresenta un'estensione. Più che un seguito è una via parallela che From Software ha deciso di tracciare, allontanandosi leggermente dai ritmi dei suoi precedenti lavori, ma senza tradirne la struttura di base. Di fronte insomma ci troviamo un action RPG violento, cattivo, un titolo che richiede una dedizione integrale. Non fatevi ingannare da chi raccontava di un presunto abbassamento della difficoltà, perché Bloodborne è un gioco proibitivo nel senso più schietto del termine. Si sentiranno a casa i veterani della serie, che scopriranno un sistema a tratti familiare, con qualche differenza sostanziale in grado di dare al gioco un retrogusto nuovo. Fin da subito si percepisce infatti un mutamento del gameplay. L'idea di concentrarsi quasi integralmente su un'azione rapida e martellante è diretta conseguenza della nuova iconografia, che abbandona del tutto le influenze medievali per portarci in un gorgo di architetture vittoriane. Qui si perde insomma la mitologia di maghi, arcieri e cavalieri, e dal giocatore viene imposta la macroclasse del cacciatore, un predatore rapido e spietato. Combattere a viso aperto è insomma un imperativo, bisogna scegliere la propria arma fra un numero abbastanza ristretto e poi metabolizzare le animazioni di entrambe le sue forme. I tasti d'attacco diventano tre, si allarga il moveset e lo scontro con le creature di Yharnam si tramuta in una stringente operazione sui ritmi dei colpi e degli assalti. Dovrete imparare a sfruttare le schivate, che sostituiscono la capriola quando la visuale è incollata su un nemico, e usando con il giusto tempismo un'arma da fuoco sarà possibile eseguire una counter che può sfociare in un attacco cruento. Il risultato è un sistema di combattimento molto più teso, nervoso e a tratti tecnico, che rimuove le sicurezze del giocatore e lo costringe ad affrontare le minacce in maniera rapida e decisa. Considerando che il numero di completi e armi è molto ridotto, sulle prime sembra che Bloodborne sia un prodotto meno complesso e stratificato dei suoi predecessori, e invece c'è solo bisogno di scoprire tutte le conseguenze di un sistema nuovo e intelligente, che utilizza le statistiche in maniera molto creativa, e permette di creare personaggi ibridi concentrati su armi da fuoco o magie di supporto. Persino il sistema di potenziamento delle armi, che sfrutta alcune rune che ne alterano le caratteristiche, aggiunge una profondità inattesa. Chi si aspettava insomma un clone integrale dei Souls deve ricredersi. Abbattendo alcuni dei pilastri su cui si reggeva il gameplay delle sue precedenti produzioni, e rinsaldandone invece altri, Miyazaki ha creato un gioco dal sapore nuovo ma consueto, riuscendo nell'impresa di trovare una forte originalità nella conservazione. Il sogno del cacciatore è una sorta di snodo centrale che ha la stessa funzione del Nexus di Demon's Souls. L'andirivieni tra questo cimitero onirico e la città di Yharnam non tramortisce però il level design, che anzi raggiunge e supera le vette qualitative del primo Dark Souls. L'urgenza di tornare spesso e volentieri nel sogno costringe purtroppo a confrontarsi con i tempi di caricamento francamente inaccettabili. La frammentazione del ritmo di gioco che ne consegue è a tratti assillante, ed è senza dubbio la conseguenza più fastidiosa di un processo di ottimizzazione non proprio esemplare. L'avventura di Bloodborne in ogni caso risulta sicuramente più corta rispetto a quella di Dark Souls 2, molto condensata ma per fortuna punteggiata da boss fight quasi sempre ispirate. L'esperienza di gioco non si esaurisce però arrivati alla fine dell'avventura, non solo perché il titolo è pieno di segreti, ma anche per il nuovo sistema dei Chalice Dungeon, che rappresenta un contenuto endgame dall'estensione smisurata. Il level design dei dungeon è sicuramente meno complesso rispetto a quello della città, ma non certo povero di stimoli. Oltre a stanze segrete e scontri con boss inediti, c'è la possibilità di generare strutture procedurali in cui perdersi per ore. L'estensione e le potenzialità dei Chalice Dungeon sono davvero enormi. Nonostante alcune limitazioni del multiplayer cooperativo, quella legata ai callici è un'esperienza di gioco paragonabile ad un'avventura parallela. I tempi di caricamento non sono l'unica pecca del comparto tecnico di Bloodborne. Anche il framerate va annoverato tra i problemi della produzione. Non ci sono mai eccessi tremendi, ma raramente la fluidità può dirsi solida e costante. Per il resto, il colpo d'occhio regge il confronto con la next gen. Non manca qualche texture meno definita, ma l'atmosfera e l'abbondanza di dettagli compensano abbondantemente le piccole storture. La scena risulta complessivamente molto pulita, merito anche di un filtro anti-aliasing efficace anche se non al top della produzione esclusiva su PlayStation 4. L'eccellenza del look di Bloodborne in ogni caso si declina attraverso le sue splendide architetture, gli scorci bellissimi e terribili. Il lavoro stilistico è masodontico e vorace. Fagocita le suggestioni di matrice lovecraftiana, l'iconografia dell'epoca vittoriana, le affascinazioni dell'arte gotica, consegnandocele in una versione corrotta e depravata. Questo ambiente perduto si manifesta attraverso un tremendo concerto di urla, di grida e di colpi sordi. Solo nel corso degli scontri con i boss l'accompagnamento musicale sale, incalza il giocatore e esaspera la sua tensione. Il doppiaggio italiano è di buona fattura e l'impegno produttivo del publisher non può che essere apprezzato. Nel rifiuto integrale del fantasy, in questa sua capacità di aggrapparsi alla mitologia di una città vittoriana e corromperla integralmente con l'odore del sangue, sta forse la più evidente grandezza di Bloodborne. La coerenza spietata con cui Miyazaki ha portato avanti la sua visione arriva poi a influire sui meccanismi di gioco, a riscrivere il sistema di classi e le meccaniche che stavano alla base della saga targata from Software, per consegnarci un titolo che sia familiare nella struttura ma nuovo nei ritmi, insomma tutto da scoprire anche per chi si professa conoscitore esperto dei Souls. Al netto di qualche inciampo tecnico, Bloodborne è quel capolavoro di cattiveria che il team di sviluppo aveva promesso a PlayStation 4. Resta un titolo difficile da avvicinare per chi non abbia mai affrontato un'esperienza simile, con una progressione punitiva e a tratti frustrante, ma è così facile finire catturati dalla sua spirale di violenza e sacrificio, ed è così affascinante la sua iconografia, che suggeriremo a tutti di fare almeno una prova. Grazie. 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 Grazie.